ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora il liquido si chiama dax un buonissimo liquido lo preferisco al to puff sicuramente dal profumo è una bomba la squisitezza ragazzi è un panna montata biscotto e zuccherino tanta roba da provare ora andiamo alla prova di svapo è un 70 30 bello denso dopo qualche giorno che è aperto comincia a cambiare un po mi piace un po di più dall'inizio quando lo apri proviamolo un liquido tirato fuori poi dall'avaporata tanta roba andiamo a fare la prova di svapo intanto io non lo drippo vai gabrie daci e tu e considerazioni poi come cremoso come ti dice che sono buono buono ma quello ne fa anche tanto ma sapore vuole sapere sapore ti arriva un po' in bocca come mi piace è bello cremoso a me piace cremosissimo dolcissimo mi piace tanto proprio denso 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 forse arriva in bocca il sapore di sapore un po' dopo un po' no a me no a me no a me sono quei liquidi che mi piacciono se sente tanto la panna montata insieme al biscotto è vero è vero che è subito e poi è una miscelazione e i zuccherini e sentire il zucchio ti esporrono in bocca buonissimo l'abbiamo acquistato al nostro negozio di fiducia svapo caffè ricordiamolo andatela a trovare anche sul sito anche sul sito c'è anche su facebook svapo caffè sigarette elettronica salutiamo cristiano che ce l'ha consigliato buonissimo liquido meglio che il tupato che voto ce l'hai birillo 9 io non ho mai dato un voto così altro io 9 a me mi piace tantissimo sono stato contento di aver fatto questo acquisto ora farò una fornitura un po' più vasta perché me lo sto svapando con molto gusto durante la giornata va che una meraviglia va che una meraviglia mi piace mi sentimi in bocca mi lascia un sapore buono allora dalla taberna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo facebook la taberna dello svapo e instagram sempre uguale la taberna dello svapo se vi volete iscrivere noi siamo contenti dalla taberna dello svapo è tutto un bacio